Buonasera, di nuovo ben ritrovati con l'informazione di TV2000. In primo piano la scuola oggi al via, i corsi di recupero, una sorta di prova generale del rientro in classe tra timori, preoccupazioni e molte incognite ancora da risolvere. Barbara Masulli e Pierluigi Vito. Ad uno ad uno, le mani e guardate la classe dove siete. Si ricomincia così, ingressi scaglionati, distanziamento, igiene personale e sanificazione sono le prove generali del nuovo anno scolastico al via a metà settembre. Dal punto di vista psicologico ritenevo che fosse importante in qualche modo rompere il ghiaccio e per tranquillità anche nostra era bene farlo in modo graduale. Oggi in aula sono arrivati i primi ragazzi, quelli che devono recuperare i debiti, ossia le insufficienze in alcune materie e non sono mai stati così felici di tornare sui banchi. Con le mascherine e tutto, però almeno si dia un po' quel calore che c'era prima come gruppo classe. Invece a distanza comunque è tutto molto più triste, si può dire. Felici sì, ma con un velo di preoccupazione. I contagi si stanno alzando, poi i corrienti studenti comunque non faranno mai il distanziamento. L'emergenza Covid non ha fatto altro che far esplodere questioni annose che tormentano la scuola italiana. Ma mentre fino all'epoca pre-pandemia si poteva dire, vabbè, 27-28, che problema c'è, stanno un po' stretti, d'altonde sono ragazzi e bambini abituati a stare sempre insieme, col Covid non è stato più possibile. Che cosa voglio dire? Il panorama scolastico italiano dal punto di vista degli edifici al 56% è precedente agli anni 70, quando non esistevano delle norme di distanziamento ambientali e così via. Prima si faceva finta di non vedere da parte dei proprietari, cioè gli enti locali, comuni e provincia, col Covid tutti i nodi sono venuti al pettine. La salute innanzitutto, ma senza fare i furbi. La preoccupazione per i dirigenti scolastici è nata dalle migliaia di domande di docenti e personale ATA che hanno chiesto l'esonero dal servizio a scuola in quanto lavoratori fragili. Per questo il Ministero della Salute ha lavoro per dettare regole precise. Stando alle anticipazioni dovrebbe servire un certificato medico dell'INAIL che attesti una patologia cronico-degenerativa. Vigilerà sulla salute di ragazzi e adulti il responsabile Covid di cui ogni scuola dovrà dotarsi. Da oggi al via il corso di formazione promosso dal Ministero dell'Istruzione e Istituto Superiore di Sanità che sarà online e gratuito, disponibile fino al 15 dicembre prossimo. Questione cruciale è quella delle mascherine. Gli studenti dai sei anni in su dovranno indossarla all'ingresso, all'uscita e durante ogni spostamento all'interno degli ambienti scolastici, ma non quando saranno seduti al banco. Saranno dispensati gli alunni disabili. Gli insegnanti dovranno tenerla durante la lezione, ma si pensa di fornirle divisiere o mascherine trasparenti soprattutto per la scuola primaria, per dar modo ai bambini di vedere l'espressione e seguire i labiali delle maestre. Infine, definite le linee guida per il trasporto pubblico. La capienza dei mezzi verrà limitata all'80%, con eventuali deroghe se si utilizzano dispositivi per il filtraggio dell'aria o separatori tra i sedili. Si dovrà rispettare il distanziamento di un metro e fornire ogni vettura di dispenser di igienizzanti. Stanziati anche 350 milioni di euro a regioni, comuni e province per provvedere all'aumento dei servizi. E a proposito di scuola, a New York la riapertura prevista per il 10 settembre è stata rinviata di almeno 11 giorni per l'emergenza Covid, ma gli Stati Uniti in questo momento sono ancora nel turbine delle tensioni razziali e di una campagna per le presidenziali al calor bianco. Massimiliano Cochi Nel video diffuso su Twitter da un testimone si vede un uomo fuggire inseguito da due poliziotti. Le immagini poi mostrano gli stessi poliziotti con le armi in mano, l'uomo a terra immobile e la gente attorno che urla. È morto così Dion Kisi, 29 anni, afroamericano, ucciso dalla polizia. Secondo quanto ricostruito, gli agenti gli avevano chiesto i documenti, ma lui era fuggito. Dopo un inseguimento e forse una collutazione, i poliziotti, due vice sceriffi, hanno sparato. Una folla si è immediatamente radunata sul posto e poi in corteo ha raggiunto la stazione di polizia. Dunque le manifestazioni contro le violenze e i danni degli afroamericani innescate dall'uccisione il 26 maggio a Minneapolis di George Floyd non si fermano. Anzi sono diventate un tema centrale della campagna elettorale. Tanto che Donald Trump è atteso tra qualche ora a Kenosha, in Wisconsin, dove una settimana fa un altro afroamericano, Jacob Blake, come mostra questo video, è stato ferito dalla polizia e due manifestanti del movimento Black Lives Matter che marciavano per protesta sono stati uccisi a colpi di fucile da un 17enne di estrema destra. Vado per ringraziare la polizia, ha dichiarato Trump in un'intervista a Fox News, paragonando la gente che ha sparato sette colpi alla schiena di Jacob Blake a quei golfisti che dopo aver commesso un errore vanno nel pallone. Un'altra uscita fuori dalle righe per il Presidente, come il post pubblicato su Twitter con i dati sul Covid-19, post rimosso dal social network perché quei dati erano falsi. Rientriamo in Italia per vedere l'andamento dell'epidemia nel nostro paese, dai dati di oggi, luci ed ombre, come ci dice Letizia Davoli. Meno positivi, più tamponi, ma anche più terapie intensive. I contagi da Covid-19 in Italia continuano a diminuire. Un calo iniziato ieri e proseguito anche oggi, con 18 casi in meno, 978 contro i 996 del 31 agosto. 23.000 in più i tamponi processati in queste ultime 24 ore, 81.000 contro i 58.000 di ieri. Ma accanto ai dati positivi ce ne sono di meno confortanti. Anche se la maggior parte dei positivi in Italia sono asintomatici o mostrano solo lievi sintomi, sono in aumento i ricoveri, 100 in più in osservazione in ospedale e 13 in più nelle terapie intensive, 107 contro i 94 di ieri. Ma se guardiamo ai dati di fine luglio, quando ancora l'Italia non era in vacanza, dimentica delle regole, le terapie intensive ospitavano solo 38 persone. Continuano a esplodere dunque in tutta Italia nuovi focolai, soprattutto attorno a casi da rientro, che restano la maggior fonte di contagio del paese, più del 50% dei positivi. Proseguono quindi in tutti i principali aeroporti e porti commerciali controlli a tappeto su chi rientra da paese a rischio e dalla regione Sardegna. Disponibili anche test prima della partenza, non obbligatori ma fortemente consigliati. E da oggi, accanto all'aeroporto di Fiumicino a Roma, si aggiunge al presidio sanitario all'interno dello scalo anche il drive-in più grande d'Italia. Dotato di sei checkpoint sanitari per il prelievo dei campioni e in grado di ospettare fino a 130 autovetture, resterà aperto sette giorni su sette, con ampia copertura oraria e sarà accessibile a chiunque. È ancora fermo al confine tra la Polonia e la Bielorussia in attesa di spiegazioni l'arcivescovo di Minsk, che ieri è stato bloccato dalla polizia alla frontiera mentre rientrava nella capitale bielorussa. Ora sto scrivendo alle autorità civili, ha detto Monsignor Tadeus Kondruisevich, presidente dei Vescovi, ma non vorrei che il mio caso sia causa di ulteriori tensioni nel paese. Di nuovo in Italia adesso sono arrivati a Palermo i 353 migranti della Sea-Watch. Domani saranno trasferiti nella nave quarantena a largo delle coste siciliani. Clara Agliatosti. Prima il soccorso in mare da parte della Louise Michelle, la nave finanziata dall'artista inglese Banksy, poi il viaggio a bordo della Sea-Watch 4. Alla fine i 353 migranti, soprattutto subsaeriani, saranno trasferiti domani sulla nave quarantena Allegra, la terza messa a disposizione dal Viminale. Il trasbordo dovrebbe avvenire a largo di Palermo, dove il traghetto arriverà entro l'alba di domani. Prima di far salire i migranti, saranno ultimate le ispezioni sanitarie. L'imbarcazione dovrebbe poi raggiungere Lampedusa. Proprio dal centro di accoglienza dell'isola è partita stamani una giovane migrante positiva al coronavirus, che ha partorito in volo un bimbo, mentre l'elicottero del 118 stava sorvolando Siracusa. Timidi, ma significativi segnali di ripresa da parte di un'economia paralizzata dal Covid. Ci spiega meglio Marco Bergamaschi. Luce e ombre sul mondo del lavoro italiano ai tempi del virus. A luglio l'occupazione, dopo quattro mesi di flessioni consecutive, torna a crescere. 85.000 gli occupati in più spiega l'Istat, in particolare tra le donne e i dipendenti. Sale il tasso di occupazione e cala quello di inattività. Ma da febbraio il livello dell'occupazione è sceso di quasi 500.000 unità. Circa 50.000 le persone in più poi in cerca di lavoro. E gli inattivi sono aumentati di quasi 400.000. Con un'emorragia da inizio 2020, soprattutto di dipendenti a termini indipendenti, mentre sono cresciuti gli occupati a tempo indeterminato. Sempre a luglio il tasso di disoccupazione sale e tra i giovani torna sopra il 30%. Buone notizie invece dalla manifattura che ad agosto in Europa continua il recupero ed è il nostro paese a guidare questa ripartenza. La ripresa manifatturiera in Italia continua per il quarto mese di seguito e avanza a ritmo più veloce da oltre due anni. L'indice che considera produzione nuovi ordini è a 53,1 punti. sopra la soglia dei 50 che separa espansione e contrazione e in aumento rispetto a luglio. Agosto chiude senza 8 milioni di turisti stranieri e quanto emerge dal bilancio della Coldiretti sull'impatto della chiusura delle frontiere durante l'emergenza sanitaria. Il Covid, spiega alla Coldiretti, ha fatto crollare del 30% la spesa turistica in tavola con drammatici effetti sulla ristorazione e sull'intera filiera agroalimentare. E a proposito di economia in difficoltà e di ripartenza, ora andiamo a Roma dove sono state riattivate le telecamere che limitano gli accessi al centro storico della città. Erano state spente per dare un po' di ossigeno ai commercianti, ma la riaccensione non trova consensi, come ci dice Silvio Vitelli. Lavoro e abito qui al centro, al centro storico di Roma, quindi diciamo che è una bella mazzata perché sotto tutti i punti di vista. Non essendoci nessuno in giro, quindi la cosa è doppiamente grave. Si muove su due fronti, la polemica sulle zone a traffico limitato di Roma tornate attive dopo sei mesi di stop causa pandemia. I commercianti lamentano minori incassi in quest'anno già orribile dal punto di vista economico e i residenti, strano ma vero, stanno per una volta dalla loro parte anche a causa delle tariffe elevate per l'ottenimento del permesso di circolazione. È stato molto caro in effetti, molto caro, e gente ce n'è pochissima, quindi un danno anche per tutti. Io sarei per riaprirlo per un po', perché tanto così è tutto morto, non c'è nessuno. Prima guadagnavano 100 euro, adesso guadagniamo 20 euro, è finita secondo lei? Come vuole che la veda, la vedo tragica, è chiaro? Tragica. Io penso che in un momento come questo forse sarebbe ancora giusto lasciare tutto aperto e cercare il massimo possibile di portare avanti un po' di economia, quel poco di economia che c'è senza tanti problemi. Qua non ci si arriva volando, se si vuole evitare che la gente si accalchi sui mezzi pubblici, tu devi fornire ai varchi un servizio di navetta gratuito. Restiamo a Roma, ha aperto alle 18 di oggi pomeriggio, ma ha già accolto i primi pazienti, stiamo parlando del nuovo pronto soccorso del Policlinico Universitario Campus Biomedico di Roma, 2100 metri quadrati, capaci di gestire 45.000 pazienti ogni anno. La nuova struttura è completamente integrata nell'edificio del Policlinico, siamo nel quadrante sud-ovest della città che da sola conta poco meno di un milione e mezzo di abitanti. La politica adesso, il governo pone la fiducia sul decreto Covid, scatenando l'ira delle opposizioni, ma le tensioni salgono anche in vista del voto del 20 e 21 settembre, voto sul referendum costituzionale e sulle elezioni regionali in sette regioni. Massimiliano Niccoli. In piazza il 12 settembre, per spiegare le ragioni del sì e del no, i comitati affilano le armi in vista della consultazione del 20 e 21, un appuntamento elettorale che con le regionali agita le acque della maggioranza. Ho un grande rispetto per molti dei dubbi che stanno alla base della scelta del no, scrive oggi in una lettera il leader dei Democratici, Nicola Zingaretti, ma sarebbe ipocrita orientarsi in quella direzione per uno spirito polemico contro l'IPD e contro l'esecutivo. Una tirata di orecchie a quanti anche nelle fila della maggioranza hanno deciso di andare controcorrente. Lunedì la direzione del partito esprimerà la posizione ufficiale. E mentre Forza Italia, per voce del suo leader Silvio Berlusconi, dà libertà di scelta, altro appuntamento per domani, quando la Camera voterà la fiducia sul decreto che proroga l'emergenza Covid. Siamo di fronte a una, certamente, fase di rilancio delle nostre economie, ma caratterizzata appunto da un clima di incertezza. Un clima, spiega il commissario europeo per l'economia, Paolo Gentiloni, che può essere rafforzato grazie ai soldi del Recovery Fund. Ma, dice Gentiloni, il governo, nel compilare il programma di riforme, deve indicare le proprie scelte, nel quadro delle priorità, non come se fosse un catalogo delle spese. Sul mese, infine, ricorda che sarebbe fondamentale per chi è capace di rafforzare il sistema sanitario. In Sudan è stato firmato uno storico accordo di pace. Il governo e i gruppi ribelli degli stati sudanesi, del Darfur occidentale, del Kordofan meridionale e del Nilo Azzurro si sono accordati per mettere fine a 17 anni di guerra civile. All'inizio della strada verso la pace, ha detto il primo ministro del Sudan, commentando questa storica giornata. Accordo di tregua, anche tra Israele e Hamas, il governo di Tel Aviv concederà la ripresa verso Gaza di quelle importazioni interrotte nelle ultime settimane, tra cui il carburante necessario per far ripartire i generatori di corrente elettrica, e consentirà anche il riavvio della pesca a largo della friscia di Gaza. A patto però che Hamas interrompa gli attacchi con i palloni incendiari nel territorio israeliano. E oggi è la giornata mondiale di preghiera per la custodia del creato. Giustizia riparativa invoca il Papa in un messaggio. Sentiamo Paolo Fucili. E' tempo di giustizia riparativa che vuol dire cancellare il debito dei paesi più fragili alla luce dei gravi impatti della pandemia, perché non dovremmo dimenticare, ammonisce il Papa, la storia di sfruttamento del sud del mondo e il nuovo colonialismo delle multinazionali che sfruttano vergognosamente comunità indigene e paesi poveri, accusa il messaggio, affirma Francesco, per la sesta giornata di preghiera per la cura del creato, primo settembre. Le foreste dissolte, i deserti che avanzano, i mari inaciditi, i disastri climatici sempre più frequenti sono tutti campanelli d'allarme, avverte Bergoglio, di fronte all'avidità sfrenata dei consumi, stili di vita che spingono il pianeta oltre i suoi stessi limiti e fanno gemere la creazione. Ma la terra, se le permettiamo di riposare, sa anche rigenerarsi con la pandemia l'aria è diventata più pulita, l'acqua più trasparente, questo perciò esorta il Papa è il momento da sfruttare trovando stili di vita equi e sostenibili nell'usare l'energia, nei consumi, nei trasporti e sull'emergenza riscaldamento climatico in particolare il tempo stringe, bisogna far tutto il possibile per contenerlo sotto la soglia sancita dall'Accordo di Parigi sul clima, un grado e mezzo. Sarà catastrofico, avverte il Papa, andare oltre. Andiamo in Taiwan adesso per raccontarvi una storia pazzesca, la storia di Lin, tre anni, arrivata con i genitori al festival degli aquiloni e volata via all'improvviso. Sono immagini che fanno paura ma che hanno un lieto fine. Per fortuna, la coda di un aquilone infatti si è intrecciata al collo della bambina, l'ha sollevata in aria, la folla impaurita, ha urlato senza poter fare niente, alla fine però sarà lo stesso vento, eccola qui, a riportare l'in a terra tra le lacrime di gioia di tutti i presenti. Se l'è cavata con qualche graffio la bambina, di sicuro ricorderà questa avventura. Cambiamo argomento, oggi, primo settembre, ricorre Sant'Egidio Abate. In questo 2020 oltretutto ricorrono anche i 1300 anni dalla morte. Ma chi era il Sant'Egidio da cui ha preso il nome la nota comunità? Ce lo dice Francesco Durante. Era partito dalla Grecia all'inizio del VII secolo, il monaco Egidio, per stabilirsi poi nella Francia del Sud, dove fondò una comunità monastica e di cui divenne il primo Abate. insieme ai suoi monaci diede inizio ad una grande opera di evangelizzazione e di sviluppo economico, sociale e culturale in tutta la regione. Secondo la tradizione geografica, una cerva gli offriva il suo latte mentre conduceva vita eremitica e durante una battuta di caccia il re dei goti scagliò una freccia contro l'animale ma Egidio, per proteggerla, rimase ferito. Il sovrano, mossosi a compassione, gli donò vasti terreni per costruire un'abbazia. Vi rimase fino alla morte avvenuta probabilmente intorno al 720 e sul luogo del suo sepolcro nel nono secolo venne costruita una basilica. La località, situata nella regione di Nîmes, prese da allora il nome di Saint-Gilles-du-Gard. Ben presto si diffuse la sua fama di santità e il suo nome veniva invocato contro le paure per la guarigione da tutti i mali. Sant'Egidio, protettore dei deboli e degli indifesi, è stato il punto di riferimento dell'omonima comunità nata a Roma nel 1968 che ha preso il nome proprio dalla chiesa di Trastevere dedicata al santo. Oggi diffusa in più di 70 paesi del mondo, la comunità di Sant'Egidio è impegnata nel sostegno ai poveri, in programmi di aiuto per l'infanzia, nella mediazione internazionale e nella promozione della pace. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.